I I I I I I I I I Nella respirazione sono implicati primariamente il diaframma e il trasverso dell'addome. Con il diaframma regoliamo il carico d'aria, mentre con il trasverso diamo potenza all'uscita dell'aria. Se siamo abituati a una respirazione toracica, andremo spesso infame d'aria e per un cantante questo significa non avere abbastanza aria per arrivare a determinate note. Lavoriamo sulla corretta percezione di questi due muscoli. Appoggia le mani sulla pancia e prendi aria, facendo sollevare le mani. Lo avverti il movimento con le mani? Ora, quando devi espirare, usa i muscoli addominali per spingere fuori l'aria. Ripeti questo tipo di respirazione per 4-5 volte e poi rilassati. Dopo aver fatto questo esercizio per qualche giorno, verifica se riesci ad arrivare a determinate note con più facilità.